Dobbiamo fare degli interventi, per una questione di cività e di civismo gradirei, visto che insomma siamo tra tutti amici, non stiamo facendo la corrida o qualcosa, facciamo una cosa bella, dimostriamo quanto senso civico a Cazoria, io comunque parlo, parlo sempre bene di Cazoria perché mi sento onorato di essere qui, e mi raccomando, non lo faccio di fare tutti i figli. Ok, allora diamo la parola al nostro amico Luigi Scalzo.